Ciao a tutti bidoni, benvenuti in questo nuovo video della mia rubrica, come avete potuto vedere non c'è la intro perché è andata a puttane, ma ora andiamo a prendere l'email che mi è arrivata, devo dire che questa volta è abbastanza seria, è utile, ma non vi spoiler niente, tanto ora la vedrete coi vostri occhi. E calma, calma, un attimo che sto uscendo, eccoci quasi arrivati alla casella, e non sto più nella pelle. Apriamo, ed ecco l'email, presa e adesso dirigiamoci in casa, così mi posso sedere davanti al cammino per leggervi questa email. Bene, praticamente questo è l'utente che me l'ha inviata, essendo un'intervista, non vi farò leggere tutta l'email, ma solo le domande, quando sarà il tempo giusto, ma risponderò, con calma ad ognuna di esse. Bene, cominciamo con la prima, la domanda è... Numero 1, da dove ti è venuta l'idea di fare video su YouTube? Beh, la risposta non è affatto semplice, ma la domanda non è male, dovete sapere che nel 2008, c'era un youtuber italiano chiamato Drago9992, che stimavo molto. Fu lui, a fare la storia di YouTube, era un youtuber eccezionale, così decisi di seguire le sue orme, volevo parlare con lui, così aprì il canale Angel9955 e li feci il primo. Dei miei tantissimi video, che ora non ci sono più, ma è una storia lunghissima, passiamo alla prossima domanda. Numero 2, come hai conosciuto Minacraft? Ah beh, questa è una storia piena di particolari, aspettate che rientro e creo la giusta atmosfera per questa storia bellissima, eccoci qua. Cominciamo. Erano tempi duri. Correba l'anno 2011. E io avevo chiuso da tre mesi il mio vecchio canale che è Angel9996. Era una notte buia e tempestosa. E dopo tanto tempo mi ero collegato sul tubo, sono andato nel canale di un mio amico e vidi per la prima volta questo gioco, quello stronzo faceva il video per togliere la corrente da una piscina, era la versione 1.5 qualcosa, ovunque guardavo vedevo sto gioco e allora scaricai quello craccato, mi feci qualche partita e mi ci appassionai a tal punto che dopo lo comprai. Ed eccoci qua, io che faccio video sul giochino dei cubetti già va con loquendo. Non poteva finirmi peggio di così, ovviamente, la domanda numero 3 mi ha fatto ricordare che, in realtà sono finito molto peggio. Ecco la domanda. Come hai conosciuto amnesia? Beh, diciamo che l'ho conosciuto per la prima volta guardando sul tubo i video di Diddo Magica, infatti è da lui che ho voluto prendere esempio su come commentare le parti, ovvero con la webcam, che poi sarebbe la telecamera, Poi mi ha dato l'idea di fare solo custom story eccetera eccetera. Ora passiamo alla domanda numero 4, che sinceramente trovo molto opportuna e ottima, ecco ora ve la leggo. Perché, hai tanta stima, per Dodo? Beh, ragazzi la risposta è molto semplice. Dovete sapere che Dodo, in un certo senso mi ricorda tantissimo, Drago 9992, di cui vi parlavo poco fa, Dodo ha il suo stesso carattere, è calmo, disponibile, accontenta tutti, non è mai sgarbato con nessuno, insomma è gentilissimo. E' uno youtuber che fa quello, che gli piace veramente, guide pokemon, io vorrei dire per lui mille parole positive, e complimenti, ma la mia ignoranza, mi permette di dire solo queste 4 cose, ma chi lo conosce bene, sa che Dodo è molto più. Per questo è nel mio banner del canale, se mi stai guardando Dodo tra i tuoi mille impegni, sappi che questa musica di sottofondo è per te. Mi spiace interrompere questo momento, ma dobbiamo andare avanti con l'intervista, e passiamo alla prossima domanda. Ve la leggo. Hai mai fatto un contest? Se, no, credi di farlo? Se, e, si, a quanti iscritti lo hai fatto? Beh, inizio subito col dire, che io non ho mai fatto un contest, perché attirerebbe troppa gente interessata solo adesso, ma credo di farlo, quando avrò i primi soldi della partner. Ma, non vi garantisco nulla, perché se poi arrivo anche a 100 iscritti in più, cosa me ne faccio se sono tutti inattivi? Quindi ci devo pensare un po' su, ma vi farò sapere. Ora passiamo alla sesta ed ultimissima domanda, che secondo me è la più gettonata. Ve la leggo. Chi preferisci? Luke4316, Odukeepo. Devo dire che per me, rispondere è molto difficile, in quanto stiamo parlando di due youtuber fenomenali, ma immagino che io debba sceglierne uno. Mi sa tanto, che scelgo Luke4316, perché lo conosco da circa 7 mesi o più, mentre Dukeepo lo confesso, da sole due settimane. Ovviamente Dukeepo è un grandissimo youtuber, ma sì, credo che preferisco Luke4316, così ho risposto anche a quest'ultima domanda. Infine nell'e-mail c'è scritto, ti stimo sei un grande. Ciao, Giancover. Avete visto? Questo è rispetto. L'intervista finisce qui, vi saluto, a presto bidoni.